Aria nursing, un'area fortemente evoluta dall'AMCO per rendere sempre più stringente e proficuo il rapporto tra due figure professionali, la figura medica e la figura infermieristica, figure che per la verità da sempre lavorano perfettamente in sinergia tra di loro con lo scopo di ottenere risultati migliori. Ne parliamo oggi con le due più autorevoli rappresentanti, cioè le chairperson, infermieristica e medica. Ho qualche domanda da fare alla dottoressa Rossella Gilardi e le volevo chiedere quali sono gli obiettivi che si è posta l'Aria nursing per il prossimo biennio, che cosa pensate di ottenere con il lavoro che avete già avviato e che sicuramente concluderete in questi due anni di lavoro? Giustamente, come ha detto lei dottore, questa è un'area molto importante perché vede nel suo interno due figure professionali molto importanti per la presa in carico del paziente cardiologico a 360 gradi. Abbiamo la componente medica e la componente infermieristica che lavorano in simbiosi e condividono ogni aspetto clinico assistenziale. Per i prossimi due anni abbiamo preso a cuore il paziente clitico, abbiamo un paziente cardiopatico che sempre di più vediamo nelle nostre unità di terapia intensive cardiologiche, che il cardiologo e l'infermiere lavorano insieme per migliorare la qualità di vita del nostro paziente e dal punto di vista infermieristico ci siamo prefissati di dare valore maggiormente a quelle che sono le competenze avanzate dell'infermiere. Per il prossimo biennio volevamo approfondire gli aspetti ventilatori del paziente cardiopatico con l'assistenza ventilatoria non invasiva e le competenze avanzate sulla gestione dei cateteri venosi centrali. Bene, grazie. Un'altra domanda ancora, volevo porle. Da sempre la medicina non ha avuto confini e la cardiologia in particolare e si parla sempre più di Europa, si parla sempre più di proiezioni all'interno dell'intero globo terrestre. Qual è il ruolo degli infermieri impegnati nell'area nursing, AMCO, nel networking europeo? Sì, da due anni vi sono delle infermieri che lavorano già nell'area nursing, che collaborano strettamente con l'ESC, hanno avuto delle relazioni molto importanti e all'interno del comitato ci sono due nostri infermiere che collaborano alla revisione e alla nuova stesura di protocolli assistenziali per migliorare la presa in carico dal punto di vista infermieristico del paziente cardiopatico, non solo per la persona affetta da patologie cardiologiche, ma anche per la famiglia e il caregiver che una volta dimesso il paziente deve assistere a domicilio questo fragile paziente. Bene, grazie, credo che di canna al fuoco ce ne sia tanta, si tratta solo di lavorarci fino in fondo così come siete abituati a fare. Grazie ancora e tanti auguri di buon lavoro. Grazie a voi. Bene, continuiamo a parlare di area nursing, stavolta l'interlocutrice sarà la chairman della componente professionale medica, la dottoressa Doriana Frongillo, alla quale ho il piacere di rivolgere qualche domanda in merito all'attività che stanno già svolgendo e che continueranno a fare nel futuro. Si parla spesso nei vari eventi formativi che facciamo del delirium e sappiamo da sempre che l'area nursing è quell'area che è più interessata allo sviluppo delle metodiche e delle iniziative necessarie per affrontare al meglio questo aspetto che purtroppo è molto comune nelle terapie intensive cardiologiche in particolare in particolare che sono appunto quei luoghi che ospitano prevalentemente soggetti anziani che fuori dal loro ambiente perdono un pochino la connessione con gli affetti familiari e quindi voi anche per via delle patologie cardiologiche vanno incontro a questa forma di dissociazione. Quali iniziative avete intrapreso nel merito e come intendete procedere nel futuro? Direi di definire il delirium con una terminologia che c'è congeniale come uno scompenso cerebrale acuto. È una sindrome clinica ben definita che insorge acutamente, ha un andamento fluttuante interessa circa il 15-30% dei pazienti ricoverati di età superiore ai 70 anni e ha un impatto importante dal punto di vista prognostico in quanto è associato ad un aumento della durata dell'adeggenza ha un incremento dell'incidenza di demenza nel medio-lungo periodo ed ha un aumento della mortalità nel breve e medio periodo anche nei pazienti ricoverati per un evento acuto cardiovascolare. È stato visto che in circa il 16% dei pazienti sottoposti ad un intervento di Tavi c'è insorgenza di delirium e in questi c'è una prognosi peggiore. L'obiettivo dell'area nursing è quello di diffondere la conoscenza del delirium tra i medici e gli infermieri delle cardiologie. Ci sono ancora pochi dati in rapporto al setting cardiologico. Una sfida importante è quella di implementare protocolli di prevenzione per quanto riguarda il delirium. Questo a livello internazionale è considerato un indice di buona qualità delle cure. Bene, grazie. Un'altra domanda ancora. Le cronicità sono in crescita esponenziale, in particolare cresce in maniera esponenziale la cronicità cardiovascolare. Voi anche perché abbiamo a disposizione strumenti terapeutici cruenti o anche farmacologici che ci consentono di fare, di avere sempre più lungo sopravvissuti pazienti cardiopatici. In particolare l'area nursing si interessa un poco di pazienti anziani più che di altri tipi di pazienti e sicuramente avrete già creato, redatto dei programmi, dei progetti finalizzati appunto ad un trattamento più adeguato di questa patologia crescente. Io l'ho sentita parlare in molte occasioni, in occasione di alcuni eventi e ho visto che Condovizia di particolari ha riportato alcuni dati che sono a dir poco entusiasmanti su quello che è il percorso terapeutico e assistenziale che può essere attuato per questi pazienti e che sicuramente andrà perfezionato col passare dei mesi e degli anni. Cosa mi può dire nel merito? Uno dei grossi problemi è quello di approcciare la frammentarietà della presa in carico della persona con cardiopatia cronica. L'obiettivo dell'area nursing è di cercare di mettere a punto un'assistenza di precisione, di personalizzare l'assistenza al malato attraverso una presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare con l'obiettivo sia di ridurre le reospedalizzazioni, di aumentare l'aderenza terapeutica, ma soprattutto di migliorare la qualità della vita di questi malati. Io penso che l'area nursing sia un'area aperta alle professioni e in questo senso ritengo che tutti i vari attori debbano avere una piattaforma comune di lavoro, uno strumento di lavoro condiviso. Questo strumento deve essere uno strumento informatico che in qualche modo mette in relazione tutti i vari attori. In questo senso, da questo punto di vista, abbiamo una grossa carenza su tutto il territorio nazionale e per costruire questo strumento informatico medici e infermieri devono relazionarsi con altre professioni ancora, devono relazionarsi da protagonisti finalmente con altri attori e in questo caso parliamo di ingegneri, tecnici, informatici. Questa è la sfida del futuro, secondo me. Bene, grazie. Vedo che non vi mancano le idee, non vi manca la professionalità per continuare questo percorso che a premio sarà sempre più virtuoso. Vi piace molto la fine dell'intervento che ha fatto, cioè la necessità di fare un gioco di squadra che rimane sempre il gioco vincente. Grazie ancora.